Durante la prima delle sue date romane, Ultimo ha annunciato il suo tour 2025. Nel terzo concerto, ha sorpreso i fan confermando le voci che circolavano da qualche giorno. La sua fidanzata, figlia di Heather Creasy, è incinta del loro primo figlio. A lei ha dedicato la canzone Quel filo che ci unisce. Proprio sulle note di questa canzone, di fronte a un olimpico di nuovo sold out, Ultimo ha confermato la notizia che diventerà papà. Se c'è una cosa che so e che ho imparato da voi è cosa significa famiglia, ha detto il cantante, invitando Giacqueline e Luna sul palco. Poi si è inginocchiato davanti a lei, baciandole la pancia appena accennata in un lungo vestito bianco e azzurro. Niccolò Moriconi, conosciuto come Ultimo, e Giacqueline e Luna di Giacomo stanno insieme da tre anni. Si sono conosciuti su Instagram durante la pandemia di Covid-19, e da allora non si sono più separati. Ultimo usciva da una lunga relazione con Federica Lelli, ma con Giacqueline è stato un vero colpo di fulmine. A marzo 2021 hanno ufficializzato la loro relazione su Instagram e sono seguite le dediche musicali con brani come Quel filo che ci unisce e altrove. Non potremmo essere più diversi. Eppure c'è qualcosa di così simile che ci accomuna e ci unisce. Non ho ancora capito cosa sia. Spero non basti una vita, scriveva Ultimo qualche mese fa su Instagram. Oggi, quel qualcosa è diventato ancora più grande. Ultimo e Giacqueline stanno per diventare genitori e non potrebbero essere più felici. Lascia un like, iscriviti al canale e ricordati di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornato.